È stata ufficializzata poche ore fa la nomina del nuovo direttore generale della SIA, l'azienda speciale per rifiuti ed ambiente di Cerignola nel Foggiano. Si tratta di Michele Centola. Ad informare di ciò è stato l'assessore all'ambiente Antonio Leonetti una nota inviata alla nostra redazione. Mettendo in evidenza come l'ingegner Centola è stato direttore tecnico dell'ambiente di rifiuti di Deliceto, del lato Foggia 5 per 7 anni e direttore dell'impianto di molti selezione del comune di Foggia. Il progettista è di diversi piatti di trattamento dei rifiuti ed attualmente ricopre l'incarico di funzionario nell'organo di governo d'ambito della provincia di Foggia. La nomina è scatuita dall'Assemblea dei Sindaci, avvenuta 48 ore fa. Primo impegno sarà l'inaugurazione del nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti per sabato prossimo alle 10.30 in zona industriale.